La professoressa Malomo ci parla di danno alla persona e personalizzazione e dobbiamo capire quali sono i danni che in questo caso si verificano. Grazie. Grazie a lei Presidente. Prima di iniziare desidero ringraziare il Presidente della SISDIC, il Professore Pietro Pierlingeri, per l'invito che mi onora. Nella consapevolezza della pluralità di funzioni che realizza la responsabilità civile appare indifferibile la necessità di individuare adeguate soluzioni rimediali dinanzi al dilagare di lesioni, specie di natura non patrimoniale, dovute a scelte politiche ancora blande da parte dei governi di innumerevoli paesi e da arbitrari comportamenti di tanti altri soggetti, esercenti attività di impresa, multinazionali, tutti responsabili, a vario titolo, dell'aumento di emissioni di gas a effetto serra e delle conseguenze catastrofali che si innescano. I cosiddetti danni da cambiamento climatico, ben diversi dai danni ambientali. In dottrina Vecchi definisce questi danni patrimonialmente incommensurabili, i quali in realtà prima ancora si manifestano come lesioni incommensurabili perché inficiano l'intera umanità, anche futura, ma sin d'ora singole persone, la loro salute e la loro vita, spesso irrimediabilmente distrutte. Tali lesioni si realizzano a ritmo sempre più incalzante, in violazione di principi costituzionali, europei e internazionali, peraltro richiamati dall'Accordo di Parigi del 2015, attuativo degli Accordi di Cancun del 2010 e prima ancora dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dell'ormai lontano 1992, fino alla recentissima conferenza di Dubai del mese scorso, la quale, con l'ammettere l'esistenza della crisi climatica e implicitamente la responsabilità dei governi, si è conclusa con l'impegno, purtroppo dei soli stati firmatari di Parigi, ad abbandonare le fonti fossili nei loro sistemi energetici entro il 2050. Un impegno forte, auspicato da più di un decennio dalla nostra Corte Costituzionale, che lo qualifica quale interesse pubblico, meglio, quale interesse generale, secondo la migliore dottrina che identifica l'interesse pubblico con la realizzazione e l'attuazione dei diritti inviolabili dell'uomo. Il soddisfacimento del primo, l'interesse pubblico, richiede necessariamente la ragionevole ponderazione dei secondi, i cosiddetti interessi privati coinvolti. Dunque, un impegno che si traduce in un obbligo positivo, in attuazione del principio di ragionevolezza e del principio di solidarietà. Continuare a rinviare azioni propositive nella unica direzione necessaria data l'acclarata situazione di pericolo, significherebbe perseverare nel compimento di illeciti, in violazione del neminem ledere, a spregio della vita umana. Tutto questo induce a riflettere che, a fronte di illeciti già perpetrati e infieri, non si giustifica l'inerzia né ancor meno l'impunità. La valenza normativa dei valori della persona umana, della sua dignità e della solidarietà anche intergenerazionale, unitamente al diritto alla vita e al diritto al rispetto della vita privata e familiare, ben costituiscono ragioni di decisione per l'interprete, chiamato a difenderli, non essendo più i principi che li esprimono riducibili al piano esclusivamente interpretativo di disposizioni di rango ordinario, con l'erronea conseguenza che, in mancanza di espressa previsione legislativa, alcuna tutela giudiziale sarebbe possibile attuare. Essi rivestono un ruolo primario nell'argomentazione della decisione da assumere e, ad un tempo, rappresentano la via normativa delle istanze delle singole persone, legittimate ad agire in ragione degli interessi meritevoli di tutela da far valere, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, con conseguenziale giustiziabilità della materia del contendere. Si ravvisano tuttavia resistenze dottrinali e giurisprudenziali. Così, un'occasione mancata di tutela si è registrata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che nel 2019 ha confermato il rigetto del ricorso per annullamento degli atti legislativi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas serra, malgrado la loro insufficienza rispetto agli obiettivi di tutela. Quanto in quella sede, lamentato da agricoltori, allevatori, proprietari di foreste, imprenditori del settore del turismo, non ha potuto trovare tutela, a causa della pregiudizievole, quanto erronea, valutazione di mancanza di un interesse immediato e diretto provato in capo a costoro. I principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, i veri chiamati, principio di non discriminazione, diritto di esercitare un'attività professionale, diritto di proprietà, diritti del bambino, in quanto norme giuridiche avrebbero invece ben potuto costituire ragioni di decisione nelle argomentazioni a suo sostegno. Non a caso proprio gli articoli 2.8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sono stati utilizzati in maniera contestuale dalla Corte Costituzionale tedesca, chiamata ad accertare, mediante ben quattro distinti ricorsi, l'illegittimità di singole disposizioni della legge federale tedesca protezione del clima, perché in contrasto con diversi e distinti diritti fondamentali, in particolare il diritto al futuro umano e il diritto al livello minimo di sussistenza ecologica, sì da evitare la loro compromissione. Si giunge così ad acclarare la violazione da parte del legislatore tedesco dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza nel distribuire, nel tempo, le diminuzioni di CO2, con una prospettiva orientata al futuro, cioè in modo più gravoso per le generazioni future. E a richiamare quindi il legislatore tedesco al dovere costituzionale di proteggere la vita e la salute dai rischi posti dai cambiamenti climatici. Non soltanto, quanto statuito dalla Corte Costituzionale tedesca induce a due riflessioni. La prima è in vero critica, poiché non sembra interpreti correttamente il giudice costituzionale tedesco quando disconosce la legittimazione ad agire in capo alle associazioni che si sono dichiarate portatrici del diritto della natura. Già pronunce di alte corti nazionali ed europee, in particolare mi riferisco alla nostra Corte di Cassazione e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in casi di discrimina perpetrati a detrimento della persona umana e della sua dignità, riconoscono che laddove lei su un diritto fondamentale della persona, legittimate ad agire in giudizio, possono esserlo anche associazioni di categoria, sebbene non sia riconducibile direttamente in capo a un soggetto determinato proprio perché potenzialmente lesivo della dignità di un numero indefinito di persone. Tutto questo secondo un'interpretazione evolutiva ed assiologica, conforme a Costituzione e ai principi dell'Unione Europea e quindi principi internazionali. Una seconda riflessione che tale pronuncia suscita invece è di apprezzamento. L'aver ammesso il ricorso di dieci cittadini extraeuropei rende evidente che la ritrosia del legislatore tedesco verso scelte politiche rispondenti a un'efficace lotta al cambiamento climatico risulti lesiva di diritti fondamentali delle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, poiché titolari dello status persone, quindi titolari di quelle situazioni soggettive esistenziali che una volta lese legittimano ad agire in giudizio, al fine di far emergere la responsabilità di chi le abbia prodotte. Ciò perché di là dal contesto territoriale dove questo sia avvenuto, la perniciosità che ne deriva non è delimitabile secondo i tradizionali confini geopolitici e spaziali. Quanto appena tratteggiato, veniva colto in maniera autorevole in dottrina. La necessità di assicurare a ciascuna persona la possibilità di agire in giudizio a difesa del diritto alla qualità della sua vita, ai sensi degli articoli 2 e 24 della Costituzione, trova rispondenza nella nostra giurisprudenza di legittimità che consente la disapplicazione della condizione di reciprocità prevista dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, ogni qual volta ad essere leso sia un diritto fondamentale della persona. L'orientamento della Corte Costituzionale tedesca conferma tale favor persone, purché le istanze di giustizia siano perimetrate sulle specifiche lesioni subite, direi anche potenziali, infieri, da qualsivoglia persona, determinata o a priori indeterminabile, sì da evitare i loro tradursi in denegata giustizia. Ciò sembra trovare eco in una pronuncia del 2022 della Corte di Giustizia, la numero 61, su rimio pregiudiziale, sull'applicazione del principio di responsabilità degli Stati, il richiamo è alla sentenza Frankovic, in ragione della mancata attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria. In tal modo la Corte giunge ad avvallare in un obiter dictum la legittimità ad agire dei singoli interessati dinanzi ai giudici competenti per ottenere dalle autorità nazionali l'adozione delle misure rispondenti a fronte della lesione di un diritto inviolabile. Risulta allora pienamente condivisibile il mutamento di prospettiva che si è avuto sulle questioni climatiche, poiché con il preoccuparsi preeminentemente dei diritti fondamentali coinvolti, si focalizza il punto nodale sul quale devono incentrarsi le relative istanze di tutela, la persona e i suoi diritti fondamentali e non il clima. Ciò comporta che delle lesioni cagionate in concreto a situazioni esistenziali devono essere chiamate a risponderne i diretti responsabili, articoli 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione. Interessanti in tale direzione si mostrano le diverse decisioni di organi giudicanti di altri Paesi, richiamate a più voci nel corso di questi giorni. Accanto a decisioni che condannano per lo più i rispettivi Stati, a volte determinate multinazionali, sia pure per loro responsabilità parziale a fronte di quella globale, si assiste a un crescendo di stanze aspiranti alla medesima finalità di giustizia. In tale solco, in Italia, nel 2021, si annoverano due ricorsi, riuniti denanzi alla Corte di Strasburgo, per violazione del diritto alla vita, del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del principio di non discriminazione. Quindi articoli 2, 8 e 21 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nella consapevolezza che la questione climatica non ha limiti di frontiera, per le catastrofi che genera a macchia di leopardo, con ingenti ripercussioni su condizioni di vita delle persone, specie se più vulnerabili. Pendente presso il Tribunale di Roma è notoriamente la causa denominata giudizio universale, intrapresa da una serie di organizzazioni a tutela dell'ambiente e da giovanissimi, nei confronti dello Stato italiano, perché poco recettivo, come si legge nell'atto di citazione, è per questo chiamato a rispondere verso la collettività della cosiddetta obbligazione climatica, del benessere psicofisico e della salute dell'umanità intera, in virtù degli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile, in conformità degli articoli 2 e 97 della Costituzione. Decisivo il richiamo all'articolo 2 della Costituzione. Ad essere leso è il diritto fondamentale di ogni persona a una qualità di vita ottimale e funzionale al suo benessere, come si è ben delineato nel convegno SISDIC del 2014 sul tema benessere e regole dei rapporti civili, lo sviluppo oltre la crisi. Il nostro Stato, nelle sue diverse ramificazioni, risulta responsabile per omissione e, prima ancora, per disinformazione, a spregio del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione, al quale il suo agire dovrebbe conformarsi. Da elogiare altresì l'omessa invocazione dell'articolo 2059 del Codice Civile, nonostante una giurisprudenza unanime, ormai ventennale costituzionale e di legittimità, confortata da una dottrina maggioritaria, continui a declamare la bipolarità del sistema della responsabilità civile e a tipicizzare il cosiddetto danno non patrimoniale, confinandolo nell'articolo 2059 del Codice Civile, volutamente omettendo di considerare la esaustività del richiamo all'articolo 2043 del Codice Civile. Quale clausola generale aperta? Attuativa del principio del Neminem Ledere, secondo una lettura conforme a Costituzione, cioè conforme al mutato orientamento osseologico dell'ordinamento giuridico che si è realizzato dal 1948 in poi. Da tempo la migliore dottrina argomenta. La responsabilità non presuppone la tipicità dell'illecito, che è una preistoria, e i diritti della personalità necessariamente un numero aperto e in continua evoluzione confermano che questa atipicità non impedisse la responsabilità. Dunque è pienamente rispondente l'applicazione dell'articolo 2043 del Codice Civile, declinato secondo l'articolo 2 della Costituzione, per garantire l'adozione del rimedio più adeguato a fronte della lesione di qualsivoglia interesse leso, patrimoniale e non. A forziori, quando ad essere leso sia uno o più diritti fondamentali della persona, ad opera di una inetta o quantomeno poco efficace lotta al cambiamento climatico. Tant'è che lo stesso giudice di legittimità già nel 2021 ha inteso far rientrare nella protezione umanitaria quale nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, oltre al disastro ambientale, il cambiamento climatico e l'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali, ovvero sia ogni contesto che sia in concreto idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione della persona al rischio di azzeramento o di riduzione al di sotto della soglia minima. Se da un canto appare corretto discorrere di lesioni con caratteri di lungo latenza e con incidenza su situazioni giuridiche esistenziali delle quali sono potenziali titolari persone adeterminabili a priori, non si può d'altro canto negare la loro attuale configurabilità. Ipotesi tutte reclamanti giustizia e per lo più intraprese finora mediante azioni giudiziarie di classe, da organizzazioni rappresentative di interessi generali e, più di recente, da persone in teneretà o giovanissime. Illuminanti sul punto si rivelano le considerazioni della dottrina più sensibile sulla rilevanza giuridica della situazione soggettiva, richiamata in causa in questi giorni sin dal primo pomeriggio, di là dall'attuale individuazione del suo titolare, in quanto è possibile annoverare ipotesi nelle quali ve già una relazione tra centri di interessi determinati, ma il soggetto titolare, di una o di entrambe, ancora non esiste, o se esiste ne sarà colpito in un tempo futuro. La sopravvivenza della vita umana in sé, quando risulti sempre più compromessa e dunque lesa a priori dal cambiamento climatico, costituisce situazione soggettiva esistenziale, a prescindere dal fatto che il suo titolare sia o non sia ancora in vita. A tale interesse leso, di natura non patrimoniale, non si può non apporre rimedio. La situazione soggettiva esistenziale così configurata sussiste, ma esige, allora quando la persona titolare sia individuata, una riparazione integrale e proporzionata che a un tempo risulti deterrente, punitiva in modo da far desistere da simili condotte. Qualora invece la persona sia di là da venire ad esistenza? La situazione soggettiva esistenziale, che già rileva giuridicamente, esige la ferrea condanna a intraprendere azioni propositive, volte alla mitigazione del cambiamento climatico in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà. In realtà, la sommatoria di una molteplicità di contributi causali, comprovata da una pluralità di rapporti scientifici, consente sia alla singola persona vittima, potenziale o attuale, sia ad un'associazione di categoria a tutela di situazioni esistenziali lese, di chiamare a rispondere delle lesioni, così perpetrate o perpetrabili in futuro, direttamente i loro fautori e proporzionalmente al loro nefasto apporto. Questo perché non è più invocabile l'imprevedibilità degli eventi disastrosi che ne conseguono. Più di una pronuncia, anche in Italia, esclude tale imprevedibilità, a fronte di ingenti lesioni provocate da precipitazioni repentine di notevole intensità, con responsabilità dell'amministrazione pubblica di turno in quanto custode, tenuta dunque ad una manutenzione del territorio di sua competenza. Del pari non possono più definirsi imprevedibili le intense ondate di calore che sovente inducono a ricorrere all'autorità giudiziaria anche chi opera in quelle realtà lavorative che si realizzano all'aperto. La questione è di particolare rilevanza per i diritti fondamentali coinvolti, perdita di vite umane, insorgenza di malattie, condizioni di vita sempre più stravolte. Interessanti in merito si rivelano due ordinanze del giudice di lavoro di Palermo, dell'agosto 2022, scaturite da vicende di malessere vissute da due rider. Appare allora ragionevole che a fronte di lesioni di tali diritti fondamentali, cagionate dal cambiamento climatico, si garantisca una riparazione che sia funzionale a ristorare il pregiudizio subito, con un'adeguata personalizzazione del danno da garantire sia alle persone vittime sia ai loro affetti più cari, compromessi in vario modo da pesanti sofferenze fisiche, psichiche e relazionali, come chiaramente indicato da più di un decennio dalla terza sezione della Cassazione. In ragione dell'intensità e della durata dell'evento catastrofico subito, degli effetti cagionati alla loro integrità psicofisica, definiti a riguardo patoclima, al loro ambiente, fino alla perdita della vita stessa. Del resto la giurisprudenza italiana unitamente alla Corte di Strasburgo da tempo attua una tutela ad ampio spettro della salute umana, che include il rischio potenziale di contrarre malattie e quindi la risarcibilità della sofferenza personale, familiare e relazionale patita a causa dei periodici controlli medici ai quali doversi sottoporre per monitorare una condizione fisica inopinatamente pregiudicata. Si pensa ai disastri ambientali avvenuti a Seveso per via della nube tossica, a Taranto per l'Ilba e in Campania per la crisi dei rifiuti, destinataria da ultimo proprio nell'ottobre scorso dell'ennesima condanna per omessa tutela della salute delle persone coinvolte. L'adozione di soluzioni rimediali rispondenti alle istanze di tutela delle singole persone colpite, ad oggi, appare il traguardo ottimale, raggiungibile lungo quella via normativa appena delineata, ma da tempo tracciata, e che risulta essere l'unica percorribile per spronare tutti responsabilmente a ogni livello a invertire la rotta e porsi nell'ottica della prevenzione a protezione delle persone presenti e future e della sostenibilità ambientale, in chiave personalistica e solidaristica. Nel 2006, a conclusione di un convegno messinese sulle tutele da approntare a fronte di rischi ambientali e genotossici, si asseriva la necessità di abbandonare logiche patrimonialistiche, per comprendere che l'ambiente è anche cultura. Appropriandomi convintamente di quella riflessione, anche la lotta al cambiamento climatico, in questa fase, incentrata preeminentemente sull'intervento del giudice, chiamato in via emergenziale a rendere giustizia a fronte di una miriade di lesioni di diritti fondamentali, impone senza alcun dubbio un'elevazione di tal genere, affinché germogli una sensibilità condivisa sulla questione, figlia di un'adeguata formazione, di una rispondente informazione, di una correlata assunzione di responsabilità, per attuare al più presto, per quanto gravoso e oneroso potrà risultare, un accorto utilizzo delle risorse, in spirito di solidarietà verso le generazioni future. Grazie.